Hai distrutto il 68% della forza dell'inferno. Senza sacerdoti i demoni non consumeranno la terra come vuole la Khan Maika. Ma resta ancora un sacerdote e ho perso il suo segnale. Non riesco a rintracciarlo. Il Dottor Hayden riuscirà a trovarlo. Il Dottor Hayden si sta trasferendo nel mainframe della tua nave. La struttura è molto simile alla sua. Questa ora... L'ultimo sacerdote si nasconde su Sentinel Prime. La Khan Maika vuole evitare assolutamente che lo troviamo. L'unico portale funzionante per Sentinel Prime è nel nucleo di Marte, nella città perduta di Abeth. Ti ho segnato dove si trova, ma per arrivare ci vorrà del tempo. Non c'è un modo semplice per accedere al nucleo di Marte. Non esistono percorsi conosciuti che portino lì. Il BFG-10.000, progettato dal Dottor Samuel Hayden, come una parte della difesa antidemoniaca. Ho compreso. Cerco le coordinate per il BFG-10.000. Non puoi risolvere facendo solo un buco sulla superficie di Marte. Portale pronto. Ssss. Ssss. Degli ostili! Si stanno avvicinando al MIR G-10.000! Oh mio Dio! È lui! Hanno invaso i livelli inferiori! I piani alti dicono di farli passare! Cosa? E perché? Ehi! Tu chi sei? Non puoi stare... qui! L'entrata al BFG-10.000 è dal lato opposto della strucura. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. La fonte energetica del BFG-10.000 dovrebbe suscitarti interesse. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. allerta! Grazie a tutti. 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 Con i portali d'uscita d'emergenza arriverai alla centrale sulla superficie di Marte. Grazie a tutti. Puoi scendere al nucleo di Marte con le capsule di salvataggio della centrale. Non c'è un modo di arrivarci direttamente. Grazie a tutti. Benvenuti all'inferno. Gentilmente forniti tutti i vostri amici dell'Evirusi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.